Dio non è margina a nessuno. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici. Accogliamo anche oggi con grande gioia la parola di Dio e leggiamo insieme il Vangelo secondo Luca, capitolo 8, dal versetto 1 al versetto 3. In seguito, Egli se ne andava per città e villaggi, predicando e annunciando la buona notizia del regno di Dio. C'erano con Lui i dodici e alcune donne che erano state guarite da spiriti cattivi e da infermità. Maria, chiamata Maddalena, dalla quale erano usciti i sette demoni, Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di Erode, Susanna e molte altre che li servivano con i loro beni. Amen. Cari amici, questi tre versetti che oggi abbiamo ascoltato sono importanti da un punto di vista culturale, storico, dove Gesù fa una rivoluzione, porta una novità, cioè riguarda l'aspetto femminile, quindi riguarda le donne. Le donne al tempo di Gesù erano considerate come bambini o schiavi, quindi emarginate, non potevano rivestire cariche pubbliche, non erano importanti, erano trascurate, avevano certamente una loro dignità, ma accanto all'uomo, il capo della famiglia. Quindi mai potevano assumere dei ruoli importanti, anche nell'aspetto della fede. Pensiamo ai bambini maschi, invece, dopo i dodici anni, già potevano iniziare a leggere e a studiare la Torah, la legge, le bambine, no. Ecco quanto è importante comprendere che Gesù, soprattutto in questo Vangelo secondo Luca, un Vangelo aperto all'universalità della salvezza, l'Evangelista Luca, medico e bravissimo scrittore, molto dotto, vuole farci vedere, farci cogliere questi aspetti singolari, che forse per noi dopo duemila anni non dicono molto, ma a quel tempo invece erano molto significativi. Gesù ha lasciato entrare nel ramo, potremmo dire, nella cerchia dei Suoi discepoli anche le donne. Non erano i dodici apostoli, certamente, però tutte quelle donne che volevano seguirlo, che erano state colpite dalla parola di Gesù, guarite, liberate, lo seguono e Gesù le accoglie e vanno con Lui insieme ai discepoli, insieme ai dodici, testimoniano, lo seguono fino a Gerusalemme. Saranno loro che non se ne vanno, insieme a Giovanni, il discepolo amato, coloro che di fronte allo scandalo della croce, ai piedi della croce, rimangono, sono più fedele di tutti gli altri uomini maschi, ad eccezione di Giovanni, ripeto, perché gli altri hanno preso paura, se ne sono andati. Queste donne addirittura, oltre ad accompagnare Gesù nel sepolcro, il primo giorno dopo il sabato, vanno per ungerlo. Quanto è importante vedere come Gesù porta la misericordia di Dio, porta una nuova apertura. Ci fa vedere che il cuore del Padre non discrimina, non è chiuso. il cuore del Padre è aperto verso coloro che vanno verso di Lui. Questo è il Vangelo di Gesù Cristo, un Vangelo che ci tocca oggi, che non ci fa sentire emarginati, allontanati da Lui. E se abbiamo commesso qualcosa, o se viviamo alcuni stati di vita che sono un po' marginali, abbiamo fiducia che il nostro Dio ci ama come siamo e vuole di più da noi, vuole portarci alla Sua luce. Ecco, l'importanza del Vangelo secondo Luca, sperimentare la misericordia di Dio, sperimentare che in Gesù Cristo l'amore del Padre si fa realtà, è concreto per ciascuno di noi. Allora apriamo le nostre mani dicendo grazie Gesù, grazie perché mi ami così come sono, grazie perché mi accogli oggi con i miei limiti, con i miei difetti e grazie perché mi doni il Tuo Spirito Santo per superare tutte le prove, tutte le mie difficoltà. Grazie Signore Gesù perché il Tuo amore mi seduce, mi trasforma, mi cambia e mi converte alla verità che sei Tu e Tu mi doni quella libertà di cui io ho bisogno dentro di me. A Te sia sempre Gesù l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, lo slogan di oggi è Dio non emargina nessuno. Dio apre le sue braccia, ci accoglie così come siamo e oggi ci trasforma per camminare nella Sua luce. Amen. Carissimi amici, ci vediamo questa sera nella Serata Biblica, la storia della salvezza, dove ci sarà un tema bellissimo, il tema di come Israele è andato in esilio e proprio nel momento più duro e difficile della propria storia ha riscoperto la coscienza della chiamata. E' ciò che accade nella nostra vita. Ecco, vedere le crisi in un'ottica positiva, anzi, ricostruttiva. Iscrivetevi sul nostro sito web e ci vediamo questa sera. Grazie per avermi accolto. A domani. Ciao. Ecco come riscoprire una genuinità nella nostra vita, nel nostro cammino di fiducia in Dio. Tu sei il Tempio Suo, tu appartieni a Lui. Lui vuole farti partecipare del Suo Regno. Un Regno che è amore, pace, gioia, fedeltà, benevolenza, unitezza, dominio di sé. Paolo lo dice a nessuna comunità. Il Regno di Dio è in mezzo al mondo. Noi siamo il Suo Popolo, il Tempio di ciascuno di noi. a nessuna comunità.